Questa serata, come ormai tradizione e abitudine, deve essere una serata di orgoglio, di soddisfazione, di ringraziamenti e poi deve essere l'inizio di una stagione, di un'avventura nuova che ci porti a una stagione positiva, competitiva e anche divertente. Che stagione vi aspettate? E' una stagione difficile, perché la competitività e gli avversari si sono rinforzati tutti, tutti quanti sembra che vogliamo arrivare tutti là, poi invece ci arrivano in poche, però siamo consci dalla nostra forza, siamo consapevoli che il lavoro pagherà e per questo stiamo lavorando molto e siamo soddisfatti. È nata complicata, ma serve anche quest'anno il supporto dei tifosi? Quello è essenziale, credo che senza di loro potremmo anche già chiudere, è essenziale perché ci danno forza, ci danno spinta e quindi speriamo che capiscono anche loro la loro importanza e come sempre ci diano un sostegno. Vi aspettiamo alla Vitro in Frigo Arena con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Grazie mille!